Massimiliano Federica, che cosa ne pensa delle tematiche del lavoro inserite nella legge di stabilità? Il governo Letta ha avuto una marcia in più o una marcia in meno? Beh, è sempre l'ennesima presa in giro a scapito dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. Il cosiddetto taglio del cuneo fiscale in realtà si è rivelato semplicemente un nulla di fatto che non potrà rilanciare l'economia del nostro paese, non potrà dare nuove prospettive occupazionali. Se si pensa che la nostra pressione fiscale complessiva è circa il doppio di quella slovena e il 50% più alta di quella austriaca, si può immaginare che un intervento dello 0,7% ipotizzato dal governo è assolutamente ininfluente per ridare capacità di competizione all'impresa e quindi offrire nuovi posti di lavoro ai nostri cittadini. Le detrazioni sono vere o impagliativo? La nostra preoccupazione è che sia in realtà una manovra che non va ad aiutare i cittadini tagliando le tasse, ma in realtà vedranno le loro tasche alleggerite da questo governo perché nel mentre, nella legge di stabilità, sono previste delle norme che andranno ad incidere negativamente sulle finanze delle nostre famiglie.